Siamo con Irene Lamanna, Presidente dell'Associazione Taranto Turismo, presso appunto il B&B Albergo Lamanna e vogliamo fare un po', vogliamo tracciare un bilancio in termini turistici, quindi considerando il periodo pasquale, vediamo un po' come è andato il turismo in questo periodo e soprattutto le previsioni, le aspettative per l'imminente stagione estiva. Grazie Luigi, grazie per essere tornati. Grazie a te Irene per la disponibilità di questa struttura che è il salotto delle intelligenze tarantine, perché ci sono, grazie a Dio. Ci sono le deficienze ma anche le intelligenze. Grazie, grazie Luigi, grazie per scegliere sempre quindi la nostra struttura, la nostra location per trasmettere la tua trasmissione che ovviamente ha un elevato target. Stiamo realizzando proprio degli speciali di Polifemo, proprio dedicati alla promozione del territorio e quindi al turismo e quindi non potevamo non considerare la tua esperienza e competenza in materia, oltre alla combattività, l'energia, a questo credere in quello che si fa. Ti ringrazio, anche se in questo momento mi ci vorrebbe un supratine per recuperare un po' di energia, però ovviamente è una battuta. Sì, il nostro territorio anche in questa occasione pasquale 2018 ha dato dei buoni risultati sicuramente frutto di un investimento precedente, perché come sempre ci siamo detti il marketing territoriale non è qualcosa che si fa oggi per domani. È una pianificazione che indubbiamente in primis le strutture alberghiere, quindi il management di una struttura alberghiera pone in essere con tutti i mezzi possibili e immaginabili, online, con le OTA, con le agenzie, con i tour operator e con le agenzie viaggi, per promuovere dapprima la propria attività e ovviamente in tandem il territorio. Anche quest'anno ha dato ottimi risultati. Ciò che mi ha particolarmente soddisfatto e incuriosito è che, contrariamente agli scorsi anni, il turismo che ci ha visti partecipi in questo anno pasquale 2018 è stato quello italiano. E quello italiano non dei tarantini che ritornavano sul territorio, ma proprio di italiani che venivano a conoscere la Puglia e in particolare Taranto. Solitamente, forse un po' anche accompagnati dalle temperature, nel periodo pasquale, negli ultimi anni, siamo stati visitati un po' più dall'estero. Quest'anno devo dire che c'erano, ma l'incoming è stato notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti. Sicuramente un buon auspicio per la stagione estiva che si sta presentando, anche se devo ammettere che, come ci siamo sempre detti nelle nostre discussioni in materia turistica, la pianificazione sul nostro territorio non è delle migliori. Questo perché? Perché si parte da un presupposto sbagliato, ovvero che il turismo sia solo quello di esur, per intenderci quello della vacanza. Non è così. Taranto ha un'importante cassaforte di risonanza che è il turismo business, che un buon studio di management dovrebbe utilizzare e sfruttare a favore del territorio e come trampolino di lancio per destagionalizzare per le opportunità 365 giorni. Noi abbiamo il Martà, abbiamo il Castello Aragonese, i numeri boom da record. Abbiamo parallelamente una risorsa mare, ma la risorsa mare di per sé non è, rischia di essere, come dire, una monade, rischia di diventare una cattedrale nel deserto se non esiste un discorso di infrastrutturazione del territorio. E qui chiamiamo in causa gli enti locali, i comuni, Taranto e i comuni della provincia, la regione. Noi abbiamo una litoranea fantastica, però la litoranea avrebbe bisogno di interventi programmati, non occasionali, ci sarebbe tanto da fare. Io dico che forse la nostra risorsa mare, mi riferisco al discorso proprio delle strutture, del discorso, diciamo, della litoranea, per così dire, sì e no, forse al 40% è sfruttata, ma sfruttata dagli operatori del settore non per loro deficit, ma per insufficienza appunto amministrativa. Direi che sei generoso dicendo il 40%, perché se parliamo della nostra litoranea, non è sfruttata neanche per l'1%, perché chiaramente è anche difficile per gli operatori inserirsi in un contesto commerciale, culturistico commerciale, sullo stesso litorale. Fermo restando che ovviamente dobbiamo spezzare una lancia in favore del Comune di Taranto, quello non è solo Comune di Taranto. Però c'è di contro da dire che, come hai giustamente tu detto, una delle piramidi, tra virgolette, del nostro turismo potrebbe essere il mare. Bene, quello che bisogna cominciare ad intendere sul territorio è che ritengo, grazie alla Marina Militare e all'evento Trofeo del Mare, che finalmente ha trovato, pare, una via nel nostro territorio. Stiamo sviluppando quello che ci può portare ad un successo nel mare, ovvero il turismo sportivo avvicinato al mare stesso. In tutte le location di mare, partiamo da Rimini, arriviamo, o di Acqua, passando da Riva del Garda, quindi parliamo di laghi, ma anche stesso Gallipoli, il Basso Salento, hanno promosso il loro mare non solo con la pubblicità dei Caraibi pugliesi, ma anche promuovendolo attraverso quelli che sono eventi importanti, nazionali e internazionali, con dei grossi eventi sportivi o ludico-sportivi del mare, e quindi che hanno una risonanza notevole a livello poi ovviamente di penisola nazionale. Ovviamente per poter promuovere quei territori e queste attività è necessario ed è fondamentale avvicinarsi e collaborare anche con quelli che sono gli enti preposti, ovvero il CONI. Diciamo che deve essere una sinergia, una catena tra tutti gli enti a capo del quale ci devono essere due grandi colossi. Uno di questi ovviamente deve essere il comune, che è il padre del territorio, e l'altro abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio la Marina Militare, che ha più volte dimostrato, anche con i numeri del Castello Aragonese, di essere fortemente traiante per il nostro territorio. Meno male che la Marina c'è. Meno male che la Marina c'è, però questo potrebbe essere... No, no, senza alcuna strumentalizzazione o così scimmiottare qualche slogan politico. Diciamo che tantissime realtà sono state preservate dalla Marina Militare. Non dimentichiamo che in tantissime occasioni, purtroppo, le amministrazioni comunali hanno saputo, per così dire, depredare quelle ricchezze, quantomeno la Marina, pur nella ristrettezza delle risorse, perché i tagli riguardano anche la difesa, però diciamo che ha preservato, ecco, è stata garante, custode, della storia del nostro territorio. Chissà che fine avrebbe fatto il Castello Aragonese, immaginate un po'. Dopo quello che ci si auspicava nelle scorse elezioni, addirittura di abbatterlo il Castello Aragonese, come il muraglione dell'arsenale. Però è un'occasione importante questo tuo sportello, questo momento di visibilità, perché dobbiamo ricordare, per esempio, che nel 2019 sarà Bari a venire a Taranto con la partecipazione nel Mar Piccolo di Taranto delle Olimpiadi Universitarie 2019. E quindi un'occasione ancora importante... Le universiadi. Le universiadi. Un'occasione ancora importante per promuovere quella fantastica realtà che è il nostro Mar Piccolo, ma un'occasione per portare Bari a Taranto, per portare gli universitari a Taranto e per promuovere a livello nazionale il nostro mare in concomitanza, in tandem con il turismo e con tutte le realtà e gli enti locali e nazionali.